Siamo arrivati a potenzialmente l'ultimo boss dell'ultima luna piena Adesso, ho già detto mille volte perché non penso che sarà semplicemente così Penso che giocheremo anche i mesi di novembre e di dicembre Quindi qualcos'altro andrà a succedere Ma resta il fatto che potrebbe essere l'ultimo boss dell'una piena Credo però che sì avremo soltanto un singolo boss perché ne rimane uno Ma non credo se ne ha bisogno di una singola boss fatta e basta Credo in qualche modo la strega andrà a fare il casino qua in mezzo e dovremo andare a combattere O prima o dopo del boss Più probabilmente prima perché se vogliono bloccare da uccidere l'ultima ombra Deve forza cercare di fermarci prima Quindi penso che avremo doppio combattimento E proviamo a indovinare Se dovessi provare ad indovinare quale è il arcano del boss O morte o diavolo Sì vai No morte è proprio quella in continuità tecnicamente Diavolo Diavolo? Sure Iniziamo Adesso però abbiamo ancora l'ultimo giorno prima dell'una piena Possiamo passare al tempo con qualcuno Ma prima di tutto la cosa più importante in realtà è andare a vedere Quali sono i reward che otteniamo dopo aver salvato le persone dentro il tartaro Perché non si sa mai che adesso mi dà qualche oggetto veramente importante per la boss fight O che ci sarà utile in futuro Mi dà bambola di filtro Un accessorio Ok Abbiamo salato altre persone Segno berserker Un altro accessorio Ce ne dovrebbe essere ancora uno Anello avaro Tutti Ok tutti Accessori Anello avaro Più 15% di punti esperienza Interessante Bambola di filtro da recupero Segno berserker Rimonta Chance alta di risposta agli attacchi fisici Non sono male ma adesso non li darei a nessuno Se potessi darlo darei la bambola di filtro a fuca Ma purtroppo studio non funziona Perché non ha un vero e proprio turno lei purtroppo È davvero però interessante del caso Mai le prossime esplorazioni del tartaro Perché adesso non mi occupaggere niente Credo che siamo bene occupaggiati per la boss fight Credo no? Abbiamo dominazione per iniziare Abbiamo lei per fare uno spread di elementi E anche lui per gli altri che rimangono Lui per fare colpi veramente forti Lei per setappare Lui per colpire attacchi fisici Lui non è niente E lei Brobetta Adesso però dobbiamo decidere cosa fare oggi Purtroppo ho già controllato Non possiamo fare Dove è la mappa? Come si apre la mappa? Così ok Non possiamo fare un evento di nuovo con fuca Perché non basta i punti che abbiamo ottenuto prima Non so cosa sto sbagliando Quindi facciamo un test Non l'abbiamo ancora mai provato a fare È uguale se passiamo nel tempo con lei Ottiamo massimo due note E probabilmente basterebbero Ma voglio testare questo Se non sbaglio qua potevo Mi dovrebbe dare più punti Per qualcuno no? Tipo se scelgo fuca Dovrei pensare a fuca e pescare una divinazione? Pensiamo a lei Pescare una divinazione Spero di rafforzare il mio legame Sento un messaggio divino Siano benedetti i credenti Mi sento ad un tratto più in intimità con fuca Sento il legame con fuca e si è rafforzato L'omicugi dice Di mia azione di oggi Avrai magra sorte Non avrai né fortuna né sfruttuna in denaro Ho trovato una moneta a 500 euro di nani in tasca Ok Quindi mi dà le stesse cose che faresti Passando il tempo con un NPC O con un Arcano Ma anche qualcosina di altro Mi dà sempre due note Potevo avere fortuna di n3 La pandemia di questa azione è comunque un'opzione E possiamo farlo anche quando casomai non c'è nessuno La cosa veramente forte è quella lì Che può farlo anche quando non c'è nessuno di interagibile Non mi è sembra tutto Già è stata dura Cerco di non pensarci Non mi è sembra tutto 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 Non mi è sembra molto tardi Non mi è sembra tutto Grazie a tutti. Alla vigilia dell'ultima ombra percepisco un quieto raddore nei miei amici. Percepisco un forte legame con loro. Rank up del matto? Siamo ancora a un livello basso col matto, no? Eh, siamo al 6. Ci mancano ancora 4 rank up del matto. Sono tanti. Forse uno dopo il boss di oggi, uno nel prossimo mese, uno prima del boss finale, non lo so. Purtroppo dovremmo praticamente utilizzare per forza il team che abbiamo utilizzato anche per scalare il tartaro stasera. Non possiamo fare altre varianti. Non abbiamo nessuno con cui passare del tempo oggi. E allora si guarda il computer. Non possiamo fare nient'altro. Ultimo giorno prima di avere una piena, si guarda al computer fino a notte fonda. Proprio come ci si prepara anche agli esami. Possiamo guardare il fanbook Umiyushi. Mi dovrebbe forse sbloccare qualcosa. Nel fanbook c'era un codice abbonamento da utilizzare sul sito ufficiale. Dammi un'occhiata al sito Umiyushi. Il sito ufficiale di Umiyushi. Solo per membri. A sport esclusivo. Se mi registro pare potrò ordinare da sport da Umiyushi. Qui c'è il codice di membro da inserire. Grazie per la registrazione. Spero che apprezzerei il gusto di Umiyushi nella comunità di casa tua. Sono diventato un membro registrato. Ora per ordinare da sport da Umiyushi nell'area commerciale di Watodai. Ok, perché non potevo mai entrare in quel negozio che diceva sempre che era troppo occupato e troppo impegnato. E dovremmo avere... Ok, subito il giorno nuovo. Immediato tempo, diciamo, di schipare in ragionata per andare alla ora buia. Stavolta ci sarà una piena, apparirà una potente ombra. È quasi l'ora della battaglia finale. Però meglio restare a casa e conservare le energie. Va bene, pronti? Sono pronto anche asomai ad essere sculacciato oggi perché abbiamo anche poca scelta nel team purtroppo. Dove avevo combattuto insieme a... È il cattivo? Ovviamente. Sì. 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 Ci riusciremo, speriamo È il momento della batteria finale L'ultima ombra e gli strega ci attendono Si va sul serio? Devo scegliere la squadra con attenzione Eh, mi sa è Mitsuru, Takeba e Aegis Non credo di avere altre scelte di team Perché purtroppo appunto Durante tutte le sparazioni del Tatar Non abbiamo mai trovato un singolo orologio Per riportare i personaggi del team Membri del team al livello nostro Quindi abbiamo una disparità di livelli Un po' troppo grande Perché lei è al 57 e lui è al 40 Sono un po' inutilizzabili purtroppo Possiamo andare avanti con loro Che mi va bene, è un ottimo team È quello che voglio utilizzare È quello che mi ha anche potenziato Quindi va benissimo Però Resta comunque il fatto è così Ok, iniziamo Sei pronto? Sono pronto Avvio l'operazione Bene, allora si parte Va bene, fa attenzione Andiamo Finalmente è il momento della batteria finale Ma prima Dovremmo affrontare due potenti avversari Sul lato sud del Moonlight Bridge L'ha peso? E che significa? Ti sbagli Quanti anni ha lui? L'ha peso di essere Come potete Come potete Non potete Conceivare Such una pensione Sua imprudenza È davvero È davvero Di comprensione Come ho credito Nessun obiettivi Sono irreconcilibili È tempo Che palla che non possiamo portare l'intero team in lotta Sarebbe figo un 10 vs 2 Ok Takaya e Jin Non so quali siano le loro debolezze Ma io senza saper leggere né scrivere Avendo adesso ottenuto un bonus Gli abbasserei le loro caratteristiche Prima cosa da fare Riduce la difesa di tutti i nemici per 3 turni Sì, questo qua Così iniziamo e anche Mitsuru può fare il suo turno normalmente a fare danni Noi svolgiamo questo ruolo qua per adesso Te colpisci per adesso con Magarula Sperando che non siano resistenti al vento Nel caso poi si può castare resistenza al vento Non è un problema Vediamo quanti danni si fa con Magarula Ok, nessuno è resistente al vento I danni mi sembravano decenti Non sono così male Avendogli abbassato quella difesa va benissimo Te vai di Mabuffula Potremmo fare concentrazione Però no, fare concentrazione poi per caso mai il suo La sua teologia E andiamo di mega teologia con lei 164, 168 Nessuno di loro è resistente comunque Buono Qualcuno che ha anche debole Cioè sono comunque col... No No Setup Facciamo Aumenta l'attacco o aumenta la difesa? Aumentiamo l'attacco per adesso Posso aumentare la difesa anche io nel caso e... Va bene Va benissimo così Aumentiamo l'attacco Potenziamento Uh, che è il suo? Oh Ma è Gaon Oscurità? Ok Abbiamo un personale resistente all'oscurità per fortuna Beh ha senso Probabilmente utilizzeremo entrami oscurità o luce o cose simili Immagino Posso annullare i bonus delle tasistiche di avversari? Sì, posso E allora vai Annulliamo i suoi bonus Sarebbe soltanto attacco agilità Però cazzo me ne frega Leveamogli Non voglio che ce li abbia Non voglio che ce li abbia Eh, se invece Takeba cura Perché dobbiamo rimanere tutti fullati di vita Non voglio rischiare di perdere punti E carica la sua teorgia Quindi comunque ci torna utile in ogni caso Te adesso Possiamo anche analizzare, giusto? Analizziamo Hanno Immaginavo Immaginavo Posso farlo anche su di lui subito? Sì Ok Ah, fuoco Quindi non possiamo utilizzare fuoco, scurità e luce in poche parole Non è un problema, va benissimo così Riduciamo di nuovo la difesa a lui Sì Sì, riduciamo di nuovo la difesa a lui direttamente Chi se ne frega Voglio che rimanga indebolito E voglio che facciamo danni il più possibile Te invece adesso puoi castare Prima hai aumentato l'attacco Adesso aumenterei la difesa E ora possiamo andare all out con gli attacchi, no? A meno che un stop e un altro bonus, ma Granata cecante Ok, due persone in difesa Come debole What the fuck? Cosa ha preso di debole? Ok, non ha fatto un crit almeno Cazzo ha preso di debole Cioè, il persona che è debole di attacchi Ma vaffanculo Ok, meglio se non teniamo loro in combattimento Ah, non può tenere neanche lui in combattimento, va bene Neanche lui Neanche lui Ah fuck, una evidente debolezza e oscurità Non ideale Facciamolo così Magarola sugli avversari Per adesso non curiamo Eh, leverei La confusione Con Takeba Leviamo loro la confusione, sì Poi Aegis può O colpire Sì, facciamo così Facciamo Mabufula con lei Per continuare a fare danni E almeno Continuare a abbassare le difese dell'avversario E poi Aegis può ancora Continuare a lavorare di supporto Utilizzando un oggetto E curando l'intero team Ripristina 200 HP All'intero gruppo Vai Così abbiamo Più difese Siamo più preparati Non voglio che moglia qualcuno Voglio che tutti riescano a utilizzare le loro terurgie presto Ok Bomba a mano Come è debole Perché è fuoco Oh E si passano pure il turno Ma Dunno è quello che one shotta? No, 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 no E adesso c'è pure un altro turno ovviamente Che può fare questo Lei è debole Ma come c'ha tutti gli elementi Ma vaffanculo Ma che cazzo è? Matarunda Si aumenta che cosa? O ci abbassa a noi qualcosa? Ci abbassa a noi L'attacco Posso rialzarlo io Non è un problema Ho anche la terurgia attiva volendo Però vorrei utilizzarlo in tandem con qualcun altro Per fare un mega colpo ultra pesante Probabilmente lo facciamo con Se è possibile con Mitsuru Ma forse è Takaba quella che prima lo sblocca Posso rialzare l'attacco del team Che tornerebbe utile Ma è meglio se lo faccia Se lo fa Aegis dopo Quindi Per adesso Se non ci hanno fatto neanche troppi danni Cosa facciamo? Sì, è migliore utilizzare Atropo Perché c'ha delle buone difese E andiamo di Magarula di nuovo direi Magari lo sono entrambi nici Continuando a fare un po' di cheap damage Ok Buono Poi Rialzati please Rialzati please Ok, buono Ha la terurgia pronta Ok Buonissimo Potremmo usarlo su di lei Sì Potremmo utilizzare in sinergia Allora lei No, voglio fare il Mitsuru Il mega attacco Ultra potente con concentrazione Idealmente Quindi no Però posso intanto fare qualche danno a lui Perché no? Tanto c'è la difesa abbassata Noi abbiamo comunque delle buone caratteristiche Va bene così Sì, sì Facciamo così Facciamo in questo modo Fa comunque buonissimi danni Chiaramente Perché quelli sono Ottimi danni Quanta è in totale? 671 Non male Non male Non male Ora si rialza E dimmi che sblocchi subito la terurgia Perfetto Allora a te Concentrazione Prossimo tacco magico Più che raddoppiato Vai Ora Aegis aumenta l'attacco del team Cerchiamo di sopravvivere il turno Perché no? Visto che ce la dà una terurgia Anche fu che lo facciamo volentieri Se mi dà Caracca e concentrazione è ancora meglio Va benissimo anche questo Va benissimo anche questo Anche lei può fare adesso una terurgia Il fatto è che poi lei non può più funzionare Troppo da support Diventa più che altro Aggressiva Però possiamo funzionare noi da supporto comunque Va bene Facciamolo Colpiamo entrambi con il suo Cerchiamo di fare più danni possibili Non so se c'è una fase 2 anche per loro Ma sicuramente c'è un boss dopo Quindi Comunque dobbiamo giocarcela bene Buonissimi danni Buonissimi danni Difesa restabilita Oh Ok Peccato Era meglio se gli abbassavola la difesa Vaffanculo Passa la palla a lui Lui che fa Bufudain su chi? Su di lei Ok ha fatto 27 punti Ne l'ha fatto un cazzo Megidola Questo è l'attacco oscurità a tutti vero? Sì Mi ha colpito due volte A me va bene Ok Potremmo a questo punto Andare noi Della nostra teologia E basta Cerchiamo di colpire entrambi Perché sono entrambi quasi morti Volevo sì fare Migliore amico sopra di lei Ma credo basterà Un fratelli Jack O un Chaos Scarlatto Per vincere E allora attacchiamo Nuovamente noi Lei può concludere Con la sua teologia O ci ritorniamo da parte Del prossimo boss Comunque Ci potrebbe stare anche quello Sì dai Attacchiamo direttamente noi Chaos Scarlatto Il mio gioco preferito Vai Dovrebbe forse Shottare almeno Quello di sinistra Sì Era anche un critico Buono Succede qualcosa No Non succede niente Ma ho ancora uno Quindi possiamo passarlo Anche a Aegis Che Attaccherà Ah no Ha infuriato Quindi non possiamo farlo E allora Mitsuo con la sua attacco base Che la sua attacco base Basterà per shottare In realtà Sì Tranquillamente Bufudine E questo va giù Senza alcun dubbio Dobbiamo fare comunque 500 no 600 sì Tranquillamente Relativamente facile Poteva andare peggio Ma relativamente facile 64.000 punti esperienza Buono 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 Ok Ok Cosa stai facendo? Non sei così vero! Jin? Scusate. Ma... Non ho scoperto quello che hai detto con me. Voi vieni. Voi, vieni a vettere la shadow. Talvez poi vieni a vedere quello che hai vettuto per questo tempo. Espere un po' di me, non mi dimenticare che stai avvicinando! I'd rather die than surrender to you Take a good look This is how we live They jumped What the hell Don't let it get to you They chose how they wanted to go out We're not done here yet Our real target is waiting Let's focus on that for now Ok L'ultimo ombro flutto davanti a noi Non percepisco movimento Prepariamoci qui Poi andiamo in battaglia Oh che cazzo è quella roba là in fondo Abbiamo diverse fasi del combattimento comunque Mi sa di sì Ok Ok Cosa succede? Loro sanno succede se fermiamo l'ora buia Fino adesso l'unica cosa ci hanno detto era Oh perdiamo soltanto le nostre persone Non saranno più nessuno Adesso ci sta facendo intuire che succede qualcosa di grave Però il cazzo non ci hanno detto comunque Si sono buttati sotto ma non significa che sono morti anzi Ci sono buone chance che è proprio l'opposto Perché se no sono scappati così È probabile che siano vivi in realtà Ok Pronti per il secondo boss? Andiamo Va bene ci siamo Sei pronto? Sono pronto Lui è figo come design finalmente Alcuni degli ultimi boss non è lunghi Anche di design lui mi piace Anche se mi dispiace che non abbiamo delle cazze introduttive fighe quanto il primo boss Tanto che male è attaccato dalla pelle What? Bisogna colpire loro? Ok Non possiamo colpire il boss Dobbiamo colpire loro prima Statue A cosa sono deboli le statue? I have no idea Luce? Proviamo con attacco di luce media Crit? O cioè è super efficace? Uh quella è diabole Ok Proviamo Un secondo Qual è che è resistente? Questa è resistente Provo con Ah non posso fare un altro tipo di attacco Perché giusto non posso cambiare persona di nuovo Non utilizzare adesso la teologia Terrei per il boss vero e proprio Non per questa prima fase fuffa Sono tutti resistenti Ok Buono comunque come test Proviamo con Magarula Colpiamo tutti Vediamo se c'è qualcuno di debole A quanto pare no Secondo me sono Uno è debole d'oscurità qua in mezzo Però non posso controllarlo Mabufula Colpiamo tutti Qualcuno è debole al ghiaccio Buono E poi Con la sinistra è debole al ghiaccio E poi Posso Passare la palla Aigis E possiamo testare due Affinità fisiche Posso provare con Un data di caldo Vediamo se fa buoni danni È così Stradebole A un data di caldo Ok E Sta cadendo Ok Mi rende di freccia Allora No no Perché cazzo è debole Quella del centro Ho colpito tutti Ma non quello al centro Garudine Aiuto Vabbè 110 È una fine del mondo Ok C'abbiamo pure la sua teologia E Al taglio O all'oscurità Testiamo Noi adesso Con Lei Oscurità Non lo è E allora dopo Facciamo Taglio con Mitsuru Per sicurezza Te cura per dopo Così tiriamo tutti fullati E lei ottiene i punti per la teologia Così possiamo fare un mega turno di teologia Volendo Che se dovrebbe arrivare Quasi al massimo Sì infatti Potrei analizzare Io gli sp Per analizzare Ma sono sicuro Che posso battere con questo Ok Visto Visto Vero sicuro Non sapevo come cosa Non poteva essere alto A sto punto qua Spero muoia però Aaaaa Perché è l'unico attacco Che non c'è Gli attacchi da taglio A tutto certo taglio Lei Potremmo si attappare però Non so se me lo Carry Fino alla prossima fight Però potremmo farlo Perché no Intanto ci mettiamo la difesa Così anche Qualsiasi cosa faccia Non ci fa troppi danni 54 non cambia nulla Possiamo setappare di nuovo Perché no Aumentiamo anche La difesa del gruppo Per tre turni Perché no Quindi siamo ben preparati E ora Vabbè Ti puoi dare il gruppo finale To Pensavo che ci fosse Mitsuru Ma benissimo Anche lei Ok ci siamo Ok Appeso Ah sì Rimane col su turno E quindi abbiamo i bonus Giusto? Oh Ci rimangono No Ho per sbaglio Mettuto a difesa due volte? Non so che ho fatto Aspetta No possiamo farlo Possiamo farlo Analisi completa A qualcosa Resistente Non importa molto Possiamo cavarci Tranquillamente senza E allora Concentrazione su Mitsuru E poi lei dopo Nel prossimo turno Farà tirogia Abbiamo un turno Con lei Possiamo fare Volendo Aumenta l'attacco Perché vorrei che Se abbiamo già Tutti il team Potenziato Credo che Fuka non ci darà Semplicemente Un bonus Di nuovo Credo che ci darà Carica e concentrazione No? Ma Egon Spero di non avere Un personale Debole a No non c'è nessun Personale Debole al suo elemento Perfetto Vabbè Resistenza Instabilita Va benissimo Vuol dire Non siamo più immuni A tutto Ma non è un problema Ora Sperando che faccia Quello che voglio Carica e concentrazione Oracolo E poi andiamo All out Di danni Fuori di testa Perfetto E quindi si va Di danni fortissimi Ora Lui è debole Al taglio Sì Perfetto Allora si mette Credo siamo Stamossa più forte Lui davanti Con Teurgia Caos Scarlatto Vorrei testare Casomai di dare Migliori amici Anche a lei Ma c'è già Sia concentrazione Sia l'altro Non credo che Cioè forse potrebbe Funzionare Eh però Va bene anche se Facciamo così Va benissimo anche se Facciamo così Secondo me Quanti danni sono? 2000 Non male Un buon 2000 danni Per iniziare Un'altra teologia Per andare avanti Non mi sembra Una brutta idea Vediamo quanto fa Invece lei Con La sua teologia Potenziata e tutto Direi abbastanza Da quei primi tre numeri Direi che siamo Qua sui 2000 All'incirca Vediamo 1009 Siamo sui 2000 Sì Ho evocazione Oh Di nuovo No 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 Ma no Ma 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 Non riuscivo mai a fare Sta mossa con lei Domanda Scopriamo sta cosa qua Non vorrei scoprirla adesso Ma facciamolo Se io attacco Con un attacco fisico Mi consuma anche Attacco magico O no Proviamoci È a lui debole Oh è cambiata La resistenza Vabbè Allora analizziamo Tu sei debole a Ok questo Buono Colpiamolo così Allora Anche se è uno spreco Perché cazzo Si spreca così Ma vaffanculo Data di caldo Buttiamolo giù un altro C'è uno debole ai pugni No Sì È lui debole ai pugni Ah qualcuno è morto qua Tra l'altro Va bene Che cazzo Ma perché Ma vaffanculo Quindi lui è debole a Non lo so Analizziamo Il taglio no Sì è debole al taglio Cambio Gli è rimasto attacco magico Gli è rimasto attacco magico a lei Perfetto Quindi è uguale a chi Passa la palla Posso passarla anche a me Uibo adesso Perché poi si può fare così Si fate Decenti danni In questo modo All out attack Sperando che Uccida i nemici per terra Dovremmo Abbiamo tutte le casalistiche Boostate Comunque Giù No ma come Ma rimane con un punto di vita Vaffanculo Entrambi con un punto di vita È scriptatissimo Bloccami sto cazzo Vuole le ribali di tarattica Ma chi se ne frega Vaffanculo Ma che è Questo è scambio incredibile Ci stanno iper scammando Va bene Fai così Lui è morto Va giù ancora un po' Passa la palla A Aegis Che dà ciao di sicuro Una cosa a cui è debole L'avversario Sta a te A cosa sei debole te Hai pugni Peccato La cosa più costosa Va bene Così lo buttiamo sicuramente giù Che fastidio Che fastidio Incredibile Possiamo comunque abbassare La difesa al nemico ancora In effetti Ma l'edizione Ma l'edizione Andiamo di aumentare La difesa del team In modo che non muoia nessuno Aumentiamo l'attacco ancora Aumentiamo la difesa Voglio sicurare che nessuno Venga shottato adesso Che sarebbe un po' Una tragedia No Va benissimo così Ora Yukari Avrebbe un attacco Normale potenziato Ma comunque Curerei per sicurezza Così non rischia di morire Neanche Aegis Che non vorrei che successe Va bene A sto punto qua Facciamo così Riduciamo la difesa Dell'avversario E cerchiamo poi Di fare il megacolpo Con lei Che cazzo devo fare ormai Tanto non dovrebbe aver consumato niente No Non ha consumato niente Va benissimo Ora facciamo Teorogia di lei Così facciamo più danni possibili A quello centrale Vabbia comunque Farmi un buon Mille Mille Forse No forse Non ho mille Mille e quattro Con un crit Ok No Aspetta Aspetta Annulla Ah no Ancora uno Lei non può passare la palla A un altro Vaffanculo Ah Volevo passare la palla A Mitsuru Perché così Mitsuru poteva Che cazzo è successo Ottiene più azioni L'ho passata la palla a Mitsuru Si era a terra Facciamo Mamma di Dio Che è Aiuto Aiuto Ma ha fatto un cazzo Ma voglio di nuovo Ok Chi colpisci Lei Non me la uccide Ma vaffanculo De Kunda Su chi Su se stesso Restituzione statistica annullate Ma quanti cazzo Non si fa Ma basta Ma basta Ma che era Ma che cazzo è Ok Posso di nuovo abbassare la difesa Ce l'ho un modo vero Si Abbassiamogli la difesa Voglio che rimanga indebolito Per il turno di Mitsuru Mitsuru deve fare Sto cazzo di mega turno Ok Curiamo il team di nuovo Perché non voglio che muoia Deve rimanere in vita Soprattutto Mitsuru Dobbiamo fare sto cazzo di turno Ok Ora Si tira su Teologia Io non credo Io non credo avremo due volte Il Per 2,5 Di bonus del danno Ma Vediamo Abbiamo attacco magico aumentato A difesa diminuita Abbiamo avuto sia concentrazione Sia quella di Fuca Funziona o no? Direi di no Che adesso semplicemente un altro 2000 o poco No dovrebbe essere comunque di più Però 2006 non è tipo 4000 o 5000 O 6000 Va bene Ok No No che cazzo è No 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 Rimani qua Torna giù È più grande Ah Sfiga Negido E che cavolo Purtroppo non potevo fare niente con lei Perché ho fatto la teologia Ok Attacco restabilito Deve morire aumentarlo Allora A cosa è debole? Controlliamo Nulla Ah Ah Va bene Riaumentiamo l'attacco del gruppo Allora Perché ci serve come cosa Poi annulliamoli Le resistenze Agli elementi Uh Altro uno d'oracolo Ci otteniamo per dopo Nel caso Ci otteniamo per dopo Nel caso Rendiamo vulnerabile A questa status qui Così possiamo colpirlo Con vento Tranquillamente dopo Abbassiamogli La difesa Così possiamo colpirlo Fortemente con il vento Dopo In ogni caso è una buona situazione per tutti Questo dovrebbe essere il suo ultimo turno di Pazzia generale Megidola Quant'anni fa? La maggior parte ha mancato Buono Dovrei un po' Terlo copiato con colpo E battelo Però vorrei tenermi il mio attacco magico Aumentato per dopo Quindi Faccio un colpo fisico adesso Sperando che Basti Quindi vai di lui L'amo aturbinante Taglio grave su un singolo nemico E cerchiamo di buttarlo giù così Toh Crit pure Va bene Non credo mi darà un turno aggiuntivo adesso a gratis Vero? Anche se ho avuto un crit E invece sì E allora Teurgia adesso non sarebbe male C'ha ancora difesa abbassata al nemico? No Perché si risetta ogni volta Ah Fanculo Ciucciami lo scroto Ma va bene Facciamo Teurgia Fratelli Jack Sì perché ho Quello potenziato Fratelli Jack vai Più danni possibili con me Ui Vediamo onde sono Non ho il personale ideale per questo attacco qua Ma va benissimo comunque Se lo butta per terra Comunque è una buona situazione Lo butta per terra Possiamo andare ad assalto Lo facciamo? Sì Direi di farlo comunque Sono danni gratis In un turno a gratis Perché no? Vai Quanto sono? Molto poco eh Molto poco Curiamo in modo che nessuno muoia qua di nuovo Perché siamo Un po' corto di punti vita E lui può fare 40 turni in una singola botta Quindi non vorrei rischiare che succeda di nuovo Lei è di nuovo Teurgia Perfetto Potremmo adesso fare Oracolo di nuovo Potenziare l'intero team Vediamo cosa ci esce Idealmente carica e concentrazione Di nuovo Ed è carica e concentrazione Perfetto Ok E allora colpiamo con lei Con Pufudine Cercando di fare più danni possibili no? Sì Tanto è debole a questo elemento qua Vai Dobbiamo comunque essere un 600 Qualcosa di simile di danno 7900 790 Lei adesso si dovrebbe Fare l'ultimo colpo E ci fa vincere Easy Buono Ci fa due facce Figo Ok Fattibilissimo Gestita Tarocco l'appeso Nivello 60 Chezza coata L'ho potenziato Buono E fatto Adesso si termina l'ora buia Vero? Non è combattuto Jump The operation is over Or should I say Mission complete Yes It's finally over Leader I believe a celebration is in order What will be our victory cheer? Questo qua è il mio Chiaro di pittoria Si mangia 1 2 3 Let's eat Let's Eat What was that? Huh I wonder if Iga-san Can even get hungry So Kirijo senpai You're gonna help us With the victory party Tomorrow right? You certainly Don't waste any time Well I do suppose We've earned it Well in that case How about sushi? Sushi, huh? It has been a while Well I've got dibs On the halibut And sea urchin Then I call the fatty tuna Oh We're divving it up already? Um Can I get the salmon roe then? Hey Wait a minute You can't do that I reserve the fatty tuna Bluefin Shrimp Squid Scallops And sea eel Hey That's not fair You don't even eat How immature Fighting over sushi What? Mitsuru-san Please order tamago for me They say you can tell a chef's skill By how he prepares eggs A chef's skill? Jeez How old are you again? Okay Okay I'll have the very best delivered tomorrow You mean it? Oh man I'm so glad I'm still alive Junpei You can have the leftover dried gourd roll What? But it was my idea in the first place Ha 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 Non si darà niente di male I guess it's time to say goodbye to the dark hour Even though it seemed like a curse For some reason I feel sad to see it go Certo Yeah Yeah We really did it Didn't we Yes We've saved the world Even if no one knows it Yeah La battaglia è terminata L'ora buia non c'è più Mando cazzo Non ce l'ho più l'ora buia Ma di che cazzo parlano? Good morning This is the first time we've talked during the day Infatti non per solito potessi compagare di giorno Isn't this weather lovely? This really is the start of a new day For both of us All the fragments of my memory Are finally back together I understand my purpose now The time has come I know this is going to hurt But there's something I have to tell you This is goodbye For you and me In my eyes Our friendship was a miracle I want you to know that But Even miracles Don't last forever If only they did Nulla è per sempre non ha importanza Nulla è per sempre Maybe you're right Even if eternity does exist How would we ever know? It'll be no different than if it didn't exist I'll always treasure the time we had together Today maybe the end But the bond between us Can never be severed Remember that Faros mi guarda commosso Perciò mi sconforto e legame con Faros Ma non è neanche il rango 10 per lui, no? Invece sì Oh, è il rango 10 per lui Però siamo ancora al 6 al matto Che strano 10 La finita sociale della morte è raggiunta in livello massimo Ora puoi fondere Thanatos Il portatore della morte Thanos È davvero finita l'ora buia e Ci sarà un motivo per farla ritornare, eh? Quello comunque, di nuovo Potrei sbagliarmi, eh? Potrei sbagliarmi tantissimo Però non era un boss finale da persona Conoscendo Persona 5 Boss finale di Persona 5 Molto più esagerato È successo molto più casino a fine del gioco Qua non è successo ancora senza casino, secondo me Spero che il tuo stomaco sia pronto a festeggiare Perché ci sfonderemo di sushi Solo di sushi? Hai ragione Stiamo parlando di Kricio Senpai Magari mangeremo granchi o pesce palla No, parlavo di cibo io Dopo scuola Questa sera ci sarà una festa Ok Non c'è Aegis Oh Ok Wuhuu La scuola è finita E cavolo che voglia di sushi che ho stasera Aspetta il mio caro amato sushi Arriverò da te affamatissimo Allora Io ando a casa facendo in giro lungo Così mi verrà una gran fame Tu hai pure avanzanza di me Ok Non abbiamo più saputo niente di Shidori Neanche da lui Mi sembra strano Possiamo tornare finalmente una vita normale A dirlo tutto è strano Beh, andiamo a festeggiare stasera Oh Devo passare dalla squadra di tiro con l'arco Ci vediamo più tardi Ok Oh, posso fare di eventi oggi oppure No Non posso neanche aprire una mappa Stanotte al dormitore ci sarà una festa Dovete andare al dormitore adesso Eh, ma non posso fare nient'altro qua, no? Posso parlare con lui E là Oggi qualcuno si fa felice Cosa è successo? Aspetta Non ti picheremo chietta una ragazza? Beh, allora Dai sputare il rospo Sì Tal che abbia presto anche fuga Cioè, volevo dire No Sera Sos Non canterà il tuo topo presto che ti hanno bisogno, la tua abita è davvero monumente! Grazie,azuje Tu ti ti è piacere specialmente, per... per 2020 vendereci tuo potere fino al final. Oh, non è vero! Grazie a tu, le 12 scambi dietro tutto questo caos sono si distrati. Tu hai portato questo spettacolo lungo. Tu devono avere la possibilità di spettacare la gioia della nuova. Questa mattina a mattina, la squadra specializzata di extracurricula sarà disbandata. Disbandata? Oh, certo. Non dovete mai rischiare le vie in battle. Voi prossimo, potrai tornare a una vita normale di scuola. Dov'è la cacca? Dov'è la cacca? Oh! Che carino Corobaru! Ah, che bello! Ah, che bello! Ah, che bello! Tu puoi prendere la foto quando... Ah, come è questo per una posa? Ehi, prendi la mano da mia face! Ahahahahha! 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 La festa continua. Ho passato del tempo insieme ai miei amici provati dalla battaglia. Ah, ok. Un altro livello del matto. Ok, siamo al set. Mi aspettavo, infatti, ci deve essere un altro livello presto. र di circa Ahahahahha! 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 Ehi... Ma aicissà! Nooo Cuvrino Uh oh Lo ha voluto nel filo un cazzo Nooo Que la vez mai directo eh Che orecchie Cazzo di orecchie è il Mitsuru Oh oh She's simply here to fulfill her role What do you mean It will be the death of everything But also the beginning What is he saying? Is he out of his mind? You see I too was a scientist on the project Just as the experiment was designed to do That's why your grandfather gathered so many shadows To initiate the fall Di cui ci parlava Pharos That can't be Humanity has overrun this world Turn it into a barren void in the process Che era il canone della morte The only hope of salvation Lies in ruin According to the prophecy The fall will be orchestrated by A prince And once And once he has delivered us all And once he has delivered us all He shall rule the new world as king The attempt years ago failed But the time has come at last I am that prince This is insane Are you serious with this shit? I do apologize for deceiving you But all your hard work Has paved the way for the future Stay at my side For just a bit longer And you too will find salvation Find it how? By dying? I have a question for you And what's that? In that video from my dad He said the shadows had to be defeated Was that a lie too? Ah... That was in fact his recording Of course I had to Modify it to my specifications You've doctored it? Such an unsavory way to phrase it Your father Ejiro Takeba Was a superb scientist He didn't know me at the time But I truly respected him While others Focused on the shadows Abilities His research Led him somewhere Far deeper But unfortunately Non potrebbe compreendere il potenziale magnifico del fall. Cosa? Ha lasciato la ricordazione al costo della vita. Quindi sembrava. Ma è venuto molto legato. E' sicuro che sarebbe piaciuto sapere di questo. Quindi tu stai dietro a tutto? Hai usato mio papà! E io anche! Usato è una parola brutta. Ha dovuto essere fatto per il motivo del mondo. Il nostro lavoro è di righte le wrongi del passato. E noi intendiamo fare solo questo. Senpai, cosa hai... Ho sperato che tu abbia potuto vedere la luce. Ma... Tu sei solo ragazzi, dopo tutto. Magari le mie aspettazioni sono troppo alti. Aigis, è il momento che hai rilassato il tuo ruolo. Capture loro. E preparate loro per il sacrificio. Entenduto. Outra energia. At max. Aigis... What the fuck?! What the fuck?! L'osservatorio del liceo Geku-Kan. Ora parte del Tartaro. What the fuck?! What's going on here? L'osservatorio del liceo Geku-Kan ora parte del Tartaro. What the fuck? A quanto sembra non ero cosciente Huh? Ikuutsuki, what is the meaning of this? It's exactly what it looks like They are our sacrifices Harbingers of the fall All the pieces are in place And now the prophecy shall be fulfilled What? Bastard, you're full of shit My, my, how lively I guess Affirmative Father! You traitor! Are you insane? Far from it You know Your father was an unfortunate man After all this time Even his own son can't comprehend his vision My father was wrong Death as deliverance Is an ideology no one should ever embrace You fool You've become nothing but a burden I guess this man will be our first sacrifice Now Deliver unto him No Please, I guess, don't What are you doing, I guess? I I Time I'll do it myself Ten years I've wasted ten long years I am not like your father I won't make any exceptions Father Father Blast it I guess Execute the sacrifices now I'm putting an end to this I guess Hey, come on I know you wouldn't do this Do it, I guess Let me know you Oh 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 Hey Oh 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 Cosa? Aigis! Cosa? Padre! Tu non è successo di una macchina? Io lo faccio! Coromaru! È tutto tutto, signore. Non lo so, non lo so, non lo so? Perché non lo so? Perché non lo so? Perché non lo so? Non lo so! Il solo possibile fare questo è di cominciare! Si, sì, io l'ai chiuso! Bich resposti! Ho lato per dire, non lo so. Ho lato proprio per diverter. Quabones. Io però esso troppo per atto. Ho lato... Ho lato totalmente. Ho lato, non lo so. U che lato. come si è arrivato a questo? Ikutsuki-san! Padre! Padre! Padre... My father once made a promise. He swore he would atone for putting our generation in danger, even if it cost him his life. But I... I wanted him to live. I became a Persona user so I could protect him. Oh... Mitsuru è crollato sul pavimento piangendo a dirotto. L'ora buia stava per finire. Sanada ha sollevato una Mitsuru fuori di sé. Sono tornati tutti al dormitore senza proferire parola. Ok. Ecco perché Mitsuru non aveva ancora svegliato un'altra persona. C'è sempre una ragione delle cose di gameplay. Ieri c'è stata una svolta scioccante. Chissà se Mitsuru starà bene. Che ne sarà di tutti noi? Lo sapevate che mi puzzava il presente sin dal primo episodio? Lo sapevate? Sin dal primo episodio mi puzzavo. Quindi non mi sorprende per niente questa cosa qua. Mi dispiace per la morte di... Del padre però. E sapevamo appunto dove succedeva cos'altro. Quindi non sono troppo sopposizionato questa scena in generale. Però fatta comunque davvero molto bene. Il padre del presidente del consiglio studentesco è morto per una mattia, vero? Non posso immaginare come ci si senta senza entrambi i genitori. Già. Credo che aiuterò mamma con qualche commissione appena torno a casa. La prima campagna l'ha suonato. Dopo scuola, dopo scuola. Ah! Telefono. È un messaggio da parte di Sanada. Voglio sondare il terreno con tutti e capire in che situazione siamo. Vieni nella sala comuna appena rientri. Immediato? Ok. Cioè quando era scompasso il primo giorno perché era in bicicletta ed era ritardo. Già a quel punto lì avevo dei sospetti fortissimi su di lui. E più andava avanti il gioco più aumentavano. Perché continuavano dicci un cazzo, non spiegare la roba, era lì a caso. Continuavano dei sospetti infatti, erano completate fondati. Aegis però quindi cosa ne succede con lei? Perché anche lei appunto faceva parte del piano del presidente perché era lei che... Cioè era lui che ci aveva contattato per trovare lei ed era scappata dopo che lui aveva fatto qualcosa. Ma se non sbaglio anche lui che aveva iniziato la vacanza per andare lì. Sì, l'aveva iniziata lui, quindi l'aveva fatta apposta. Sarà questo l'evento che appunto sbloccherà Aegis come arcano. E Mitsuo come arcano? Probabile. Aegis non è qui oltre. Non posso credere tutto questo. È anche nei papi. L'evento di Hirijo gruppo CEO mora subito. L'evento si trattano per una malattia, però. Sì, non è mai la vera. Non. Hirijo senpai non è qui, no? È un'unico bambino, quindi c'è molto per essere sottolineato. Come il funerale e il negozio di famiglia. È probabilmente potrebbe avere le pezzi per almeno una settimana. È sembra difficile. Ho spero che sia bene. Ok. Quindi, cosa dovremmo fare ora? C'è tutto che succede a Chidori? Non ancora più. Sono probabilmente troppo busy per pensare su questo. In realtà, il gruppo del Kirito deve essere in un modo di panico. Spero che Aigis sia ok. Sì. Man, voglio sentire cosa che hanno chiede, ma non hanno fatto un peepo. Posso solo aspettare per loro a fare loro attenzione? Scopoli ci sono. Fattendo che si rinforzano con i suoi ex ex. Potrebbe poter raccogliare la scopola. Sì, ma comunque cosa faremo? Non abbiamo idea come usare le scopo di scopo. Non conosciamo ancora chi rinforzare. Sto dicendo qualcosa sulle di scopo. Che succederebbe avanti se potessi esserciate? Hm, molti domande non risposto. Sì, ma guardare qui non può solare nulla cosa, certo? Certo, ma c'è una cosa che sappiamo. Tartarus è ancora qui e le scuole stanno spettando il posto. Dobbiamo trainare così che siamo pronti per tutto ciò che ci stiamo facendo. Certo. Allora, è tutto per la notte. T'essere un po' di resta, anche se non puoi dormire. Ok. Adesso. Oh, certo, Yukari-chan. Cosa è questo? Un disc? C'erano le scuole di video sul PC. Molto è stato scoperto, ma potrei ristorizzare alcune di questo. E, beh, credo che è qualcosa che bisogna vedere. Grazie, Spuka. Siamo sicura che guardare questo dopo. E qua, risveglia la sua persona. Oh, c'è. Oh, c'è. Oh, c'è. C'è un po' di freddo che sono sicuri per tormentare i prossimi generazioni. Ma non ho una scuola. Se non ho fatto questo, potrebbe essere morto il mondo. Por favor, bisogna ascoltare molto attraverso. Cosa che faccia, è importante che non fassi i freddo che si sono disperso. Uh-huh. Questa parte... Non ho potuto fare qualcosa per stoppire questa malattia. Non lo sento a una parola che mi dico. Sì, è stato seduto per i tempi del dottor. Ci sono i monstri provi a riuscire e diventare uno di nuovo. Se si succederanno, allora siamo tutti freddo. E' un po' di più. Non andare a seguire i freddo che sono riusciti! Questo è il video original. Il video reale, prima che Rikutsuki si tratta e si tratta con l'amore. Padre cercato di mettere un stop per l'experimentazione. Non c'è molta speranza per me. Io ho solo una domanda. Chi che trovi questo, dalle mia figlia, Yukari, questa messaggio. Mi sapevo che ho promiso che sarei tornato a presto, e mi sono scoperto per la promessa, ma voglio che che sia il tuo padre, non ero più felice nella mia vita che quando ero con te. Questo è proprio mio padre. Io ti amo, Yukari. Por favor, guardatevi se. Papà? Papà? Svevo una cosa per sicuro ora. Mi ero vero di crederti in te. Sto facendo bene. È stato un tempo, ma... ho finalmente ricevuto il tuo messaggio. Ah, potrebbe. La terminazione del cuore di Yukari ha svegliato una nuova persona. Dalla persona di Yukari, io, emerge Iside. Interessante il mio design. E nuova teologia anche. Sì, una di supporto. Da una del prossimo attacco magico più credo di piatto per gli alleati. Per tutti o per uno specifico? Pensate, per tutti erupi a merda sta cosa. È molto forte, sei per tutti. Ora ci penso che quello che mi ha dato sul tetto dovrebbe essere pronto. Ah, ma me la... Cosa mi sta a dire? In questo momento avevo proprio pensato ai pomodori gialli.